Sindaco, torna percorribile il ponte di Campilonghi, una strada importante e strategica per questa zona, perché tra l'altro collega vari comuni. Sì, effettivamente è una strada per quanto può sembrare poco praticabile, invece è molto affollata, perché non serve soltanto i cittadini del comune di Capriglia, ma cittadini del comune di Avellino, di Sommondi, di Ospedaletto e anche quelli che vengono dalla Valle Caudina per raggiungere il nucleo industriale. Purtroppo un po' di disservizio c'è stato, i tempi ci sono anche prolungati più del dovuto, ma la burocrazia fa parte della nostra vita quotidiana. Quanti mesi ci sono voluti per aprirlo al traffico, ma anche ai pedoni? Per la verità sono nove mesi che è chiuso il ponte, effettivamente devo fare il mea culpa e dire che qualche mese, un paio di mesi, si sono persi nello studio delle nostre carte, perché la burocrazia, come dicevo prima, ci mangia. Diversamente prima bastava fare qualche saldatura sulla ringhiera del ponte e si poteva tranquillamente non chiuderla. Oggi invece, una volta emessa l'ordinanza di chiusura, abbiamo dovuto dare l'incarico a un laboratorio di analisi chimiche per verificare se il cemento e il ferro sono a norma e quindi abbiamo dovuto perdere tempo, dare l'incarico, aspettare i risultati di analisi. Dopodiché abbiamo dovuto dare l'incarico a un ingegnere strutturista per verificare se le analisi chimiche rispondevano a tutto il resto. Poi abbiamo dovuto fare un progettino e capire laddove, perché purtroppo abbiamo dovuto anche trovare il modo di risparmiare, visto purtroppo il problema delle casse comunali e quindi alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione che da buon amministratore compensa sia il risultato sicuro della messa in sicurezza del ponte che concilia con le casse comunali. Sindaco, lei pensa a rifarlo il ponte? Sì, noi non ci siamo fermati alla messa in sicurezza attuale del ponte, che posso garantire efficace ed efficiente dal punto di vista, ma ci siamo anche adoperati a far sì di far redigire un progetto per rifare il ponte nuovo. Abbiamo progettato un computometrico più o meno intorno ai 300 mila Euro, presentato anche al Ministero dell'Interno nel mese di settembre, unitamente ad altri progetti del Comune di Capri. Siamo in attesa, come al solito, del buon evento, della buona stella che passi anche per il nostro Comune e sicuramente vogliamo dare un ponte più idoneo, anche perché adesso il transito, come d'altronde lo era già prima, permette il transito di una macchina per volta, di un'autovettura per volta e noi vorremmo fare un ponte dove chi arriva qua non è costretto ad affrontare una strettoia, ma passa tranquillamente senza problemi.